Ieri qualche appassionato tennista mi ha chiesto ma cos'è la TP Cup? La possiamo vedere qui, che la stanno trasmettendo in diretta su Super Tennis. In pratica è un campionato a squadre, una Coppa Davis, che si svolge in Australia per inaugurare la stragione australiana dei tornei. Ci sono 24 nazioni, tra le quali anche l'Italia, suddivise in 6 gironi da 4 squadre. Poi le migliori seconde e ovviamente le prime classificate del girone accedono alla fase finale con i quarti e le semifinali. In ogni gara ci sono due singolari e un doppio e se non sbaglio Super Tennis trasmette tutti quanti gli incontri. Quindi è una settimana, anzi 10 giorni perché inizia oggi e termina il 12 di gennaio dove si possono vedere tutti i big prima dei tornei più importanti australiani. Qui sotto ti metto il link per andare a vedere il sito ufficiale.